Basta a fare una passeggiata. Non hai capito? Tenetevi inna, voglio stare da solo. Dai. Portami a Roma, devo fare la geretta. È così. Cosa? Cosa? Buongiorno. Signorina, mi scusi, ha un appuntamento? Signorina, gli ho chiesto se ha un appuntamento. Si fermi, la prego. La vedi del caso. 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 La vedi del caso.